Per fronteggiare il forte caldo di questi giorni, l'assessorato al welfare del comune ha messo a punto una serie di azioni rivolte alla tutela di persone fragili e sole come anziani e senza fissa dimora. Il piano, predisposto ogni anno con l'arrivo della stagione estiva, prevede una serie di interventi realizzati in sinergia con protezione civile e denti del terzo settore per offrire assistenza durante le ore più calde della giornata. A tal scopo è istituita la centrale operativa sociale che risponde 24 ore su 24 al numero 081 562 7027 per segnalazioni e richieste di aiuto. Sono previste informazioni meteorologiche continue da parte della protezione civile e viene offerta accoglienza diurna e notturna presso una serie di strutture distribuite sul territorio cittadino. Numerosi anche i servizi di assistenza in strada garantiti dalle tre unità mobili in giro nelle municipalità che provvedono anche alla distribuzione di ventagli con la guida delle fontanelle pubbliche più vicine.